Nel corso degli ultimi anni Torretta, San Cipirello, Borgetto, Corleone, Giardinello e Partinico. Adesso anche San Giuseppe Iato. Soltanto nel comprensorio della Partinicese, nell'ultimo decennio, sono ormai tantissimi comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. Più si va indietro nel tempo e più il numero aumenta. L'ultimo provvedimento è arrivato ieri sera. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro Luciana Lamorgese, in considerazione di accertate forme di condizionamento dell'amministrazione iatina da parte di organizzazioni criminali, ha deliberato l'affidamento a una commissione straordinaria della gestione del comune di San Giuseppe Iato, già sciolto dopo le dimissioni del sindaco e della metà più uno dei consiglieri comunali in carica. L'accesso ispettivo al comune era stato disposto il 30 settembre scorso dal prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani. Il lavoro degli ispettori era durato sei mesi per verificare la presenza di elementi rilevanti su possibili collegamenti con la criminalità organizzata. L'attenzione era puntata su una serie di atti amministrativi, tra cui ordinanze del sindaco e varie gare d'appalto, affidamenti e incarichi. Il primo cittadino, Rosario Agostaro, di fronte a quell'intervento, decise di dimettersi, formalizzando l'addio l'8 settembre scorso. La situazione che stiamo vivendo, disse, non mi consente di continuare a svolgere con serenità il mio compito con impegno e determinazione necessari. Seguirono anche le dimissioni di giunta e maggioranza a consigliare. A novembre arrivò quindi un commissario regionale, Salvatore Graziano, con il compito di guidare l'ente locale. Adesso si apre una nuova pagina di storia per il comune di San Giuseppe Iato, che non potrà andare a libere elezioni prima di un anno e mezzo.